buongiorno amici e benvenuti a questo nuovo video oggi giocheremo insieme a Masha in sua compagnia e scopriremo nuove divertenti attività da fare insieme a lei allora direi di cominciare da Masha in versione Zorro che mi sembra molto carina e molto simpatica vediamo un po' quali attività e quale prove dovrà superare la nostra Masha vestita da Zorro eccola qua allora dobbiamo tagliare con la spada tutti i frutti quindi dobbiamo colpirli al volo non è semplice banana no la bomba no mannaggia Masha riproviamo dobbiamo colpire i frutti ma non ovviamente la bomba un po' ci abbiamo fatto con il lampone Bananas la vela il lampone mi abbiamo sfidato la bomba la vela il lampone pian 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 tecola banana e pomodoro da un altro prima volta diciamo li ananas ecco qua e vai ce l'abbiamo fatta per oraopiavia vieni bolendi il tagliato 270 punti e anche questi bei palloncini colorati. Bene, direi a questo punto di provare un altro gioco. Siamo riusciti a portare a termine la nostra missione con Masha Zorro e ora proviamo a metterci nelle vesti di Masha ischimese. Masha che si trova nel regno delle nevi, vediamo un po' che cosa deve fare la nostra Masha. Partiamo! Allora, dobbiamo colpire con la palla di neve un triangolo incolorato. Allora, vai forza! Non è semplice! No, è andata a vuoto, mannaggia! Riproviamo! Masha da nessuna altra possibilità! Ecco, ancora tanti palloncini colorati e via! Riproviamo! Vai! Ecco qua! Ancora! Mannaggia! Ah, dobbiamo spostare anche questo! Ok, ragazzi, ci sono! Ecco, ora mi è chiaro! Niente, riproviamo! No! 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 Minacca! Va bene! E ora giochiamo con Masha in una nuova veste! Abbiamo provato Masha Zorro, Masha eschimese e ora proviamo Masha violinista vai eccoci qua dobbiamo dominare lo studio personale che sta suonando Masha ecco qua i tampolini bravissima Masha sei un'ottima concertista ecco la Masha bravissima hai suonato la tua marina ok brava lo sinofono ecco la bravissima Masha anche a suonare lo sinofono sei bravissima no mi ha sbagliato brava Masha hai suonato benissimo anche il video ecco ora vediamo qual è il prossimo momento beh qui non c'è dubbio brava wow Masha spondi benissimo anche la chitarra beh non c'è dubbio questa volta Masha un applauso per Masha e ora e ora la tua marina e ora il triangolo ecco che bellissimo suono Masha complimenti ma questo è il suono dell'autotraverso wow Masha le tue melodie sono fantastiche e ora vediamo un po' mmm questo è il suono di inconfondibili piatti bravissima Masha questo mi ricorda tanto il suono di un bel campanellino ottimo lavoro Masha ora andiamo qual è il suo stupendo suonerà wow questo è il bel ottioso suono dell'alba brava Masha anche l'alba la suoni divinamente in orchestra vai con la chitarra per la quattro la... quindi la... Grazie a tutti. E ora terminiamo il gioco con Masha in versione cuoca. Cosa dovrà fare la nostra Masha? Preparare delle pizze. Ho l'appolina in bocca. Forza Masha a farci vedere cosa dobbiamo fare. Funghi? Ok, prendiamo subito i funghi e mettiamoli sulla nostra pizza. Evviva! Abbiamo ottenuto una stellina. Continuiamo. Bene, sulla nostra pizza ora mettiamo, vediamo cosa ci dice Masha, 4 olive. Molto bene! E 2 cipolle ai tuoi ordini Masha. Eseguiamo subito. 1, 2, 3, 4. 4 e 2 cipolle. 1 e 1, 2. E vai Masha, ce l'abbiamo fatta! E abbiamo ottenuto un'altra stellina. Continuiamo. Mmm, che fame! Cosa ci dici Masha? 4 funghi! 4 funghi! Assolutamente! Ora li mettiamo. E anche 2 cipolle. E un peperone. Sempre più difficile. 4 funghi, 4 funghi, ecco qua, 2 cipolle e un peperoncino. Buonà! Siamo state brave, vero Masha? Un'altra stella. Siamo a 3. Continuiamo. e ora cosa ci serve? 2 cipolle, un pomodoro, un formaggio e un fungo. Allora, iniziamo. 2 cipolle, formaggio, un pomodoro e un fungo. E vai, ce l'abbiamo fatta! Un'altra stella è nostra. E siamo a 481 punti. Allora Masha, dici, cosa vuoi su questa pizza? 2 formaggi, un peperoncino, 4 pomodori, una cipolla e 4 fette di salame. Ok, iniziamo. Allora, 2 pezzi di formaggio, un peperone, un pomodoro, una cipolla, anzi no, pomodori, 4, 2, 3 e 4, perfetto e 4 fette di salame. 1, 2, 3, e 4. E vai! Nonostante la difficoltà, ce l'abbiamo fatta! 5 stelline conquistate, Masha! Vediamo un po', ora cosa metteremo sulla prossima pizza. 2 fette di formaggio, 3 fette di salame, un peperoncino, 4 foglie di basilico, una fetta di pancetta e 2 gamberetti. Allora, iniziamo. Allora, 2 pezzi di formaggio, eccoli qua. 3 fette di salame, 1, 2, e 3. Un peperoncino, eccolo qua. 4 foglie di basilico, 1, 2, 3, e 4. Un pezzo di pancetta, voilà, e 2 gamberetti, 1, e 2. Che super pizza! Questa sì, era una pizza molto farcita, e noi siamo a 6 stelline conquistate. Vai Masha, dici qual è il prossimo ordine della prossima pizza. Un pezzetto di pancetta, un pomodoro, 2 cipolle, 4 foglie di basilico, 4 olive, e 4 pezzi di peperone, e anche 3 gamberetti. iniziamo, sempre più difficile, allora, iniziamo dalla pancetta, un pezzetto, un pomodoro, eccolo qua, 2 pezzi di cipolla, voilà, quattro foglie di basilico, 1, 2, 3, e 4, 4 olive, 1, 2, 3, e 4, e poi, 4 pezzi di peperone, 2, 3, e 4, anzi peperoncino, e per finire, 3 gamberetti, 1, 2, e 3, e vai, missione compiuta, anche questa volta, ok, vediamo, Marsha, cosa ci chiede, per la prossima pizza, 2 fette di salame, 3 peperoni, 2 foglie di basilico, 1 cipolla, 3 olive, 3 fette di formaggio, un pezzo di pancetta, 4 pomodori, e via, si parte anche questa volta, allora, 2 fette di salame, eccole qua, 1, e 2, 3 peperoncini, 1, 2, e 3, 2 foglie di basilico, 1, e 2, una cipolla, voilà, 3 olive, 1, 2, e 3, 3 fette di formaggio, 1, 2, e 3, un pezzo di pancetta, voilà, e per finire, 4 fette, del nostro, buonissimo pomodoro, wow, che pizza, e, ci siamo quasi, abbiamo, ben 8 stelle, ce ne restano solo 2, e abbiamo completato, anche questo gioco, forza Masha, dici che cosa ti serve, per la prossima ricetta, 2 peperoncini, 2 gammaretti, 4 fette di salame, 3 fette di pancetta, 3 foglie di basilico, 3 fette di formaggio, un fungo, e 4 cipolle, e per finire, 2 popol d'olio, voilà, iniziamo, 2 peperoncini, 1, e 2, 2 gammaretti, hopla, naso, e boccuccia, 4 fette di salame, 1, 2, 3, e 4, 3, pancette, 1, 2, e 3, 3 foglie di basilico, 1, 2, 3, 3 fette di formaggio, ecco qua, 1 fungo, voilà, 4 cipolle, 1, 2, 3, e 4, e per finire, 2 popol d'olio, 1, e 2, e vai, ottimo lavoro, ci manca solo una stella, e abbiamo superato anche questa prova, forza Masha, dici che cosa vuoi, siamo pronte? Iniziamo, 2 funghi, 3 fette di salame, 2 pomodori, 4 gamberetti, 3 foglie di basilico, 3 olive, 3 cipolle, 1 caccetta, 2 formaggi, 1 peperoncino, e via, si parte, allora, vai con i funghi, eccoli qua, poi ci chiedi, 3 fette di salame, 1, 2, e 3, 2 pomodori, voilà, 1, e 1, 2, 4 gamberetti, 1, 2, 3, e 4, 3 foglie di basilico, 1, 2, e 3, 3 olive, eccoli qui, 3 cipolle, 1, 2, e 3, 1 caccetta, 2 fette di formaggio, 1, e 1, 2, e per finire, un peperoncino, e vai! Complimenti, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto tutte le stelle, e ben 706 punti, Masha, sei un'ottima pizzaiola, e anche questa missione, è stata compiuta, wow, quanti punti, 1206, e quanti palloncini, bene amici, grazie per aver giocato, anche oggi, insieme a noi, e soprattutto, insieme alla nostra, simpaticissima Masha, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! di, compito,